Amici del canale, ben ritrovati per un nuovo contenuto video. Siamo qui per leggere, analizzare, curiosare contenuti strettamente confidenziali, strictly confidential, come c'è scritto nel primo paragrafo, potete notare, no? Questa è una lettera scritta ovviamente dal corpo direttivo dei testimoni di Geova e fatta per venire il 6 agosto corrente anno a tutti coloro che sono impegnati nel servizio a tempo pieno, nelle attività a tempo pieno, nelle attività di propaganda organizzate ovviamente dalla società torre di guardia in tutto il mondo, in tutto il mondo, e così nel primo paragrafo indicano che questo contenuto comunque deve rimanere riservato, confidenziale, nelle mani di coloro che ricevono, e sono una stretta cerchia aderenti all'associazione, ribadisco, tutti coloro che sono impegnati a tempo pieno nelle attività dell'associazione. La lettera ovviamente è in inglese e io insomma o in qualche modo mi sono organizzato per tradurla. Questa è la lettera per intero, ecco, questa sarebbe la lettera per intero. Vediamo un po' il contenuto. Come dicevo mi sono organizzato per tradurlo perché a noi interessano proprio quei contenuti strettamente confidenziali, interessano particolarmente, interessa particolarmente sapere cosa si dicono tra loro, cosa non rendono pubblico, no? Ecco, vediamo un po', questa è la traduzione che ho fatto attraverso, grazie ai potenti mezzi del traduttore di Google, dove si va ad inquadrare ovviamente la sezione e automaticamente parte la traduzione e io faccio praticamente lo screen e lo condivido con voi. Quindi come dicevo, corpo direttivo, detestino di Geova, ovviamente la traduzione non è proprio perfetta, quindi cerchiamo di capire anche il contesto. È importante che scrivono, è importante che ci stiamo muovendo in un'altra fase della pandemia di Covid ed emergono varianti altamente contagiose, scrivono, il virus si sta rapidamente diffondendo in tutto il mondo, particolarmente tra coloro che non sono vaccinati e non voglio entrare in polemica con questo passaggio dove si associa le varianti ai non vaccinati, non voglio entrare in polemica in questo discorso, perché le notizie sarebbero tutt'altro. Ripeto, forse è doveroso fare una premessa, personalmente non sono un no-vax, non sono contrario ai vaccini, sono comunque per la libertà di scelta, per l'assoluta libertà di scelta. Andiamo avanti, pertanto condividiamo questa importante informazione, si prega quindi di mantenere strettamente confidenziale, non dovrebbe essere condiviso con gli altri, non dovrebbe essere condiviso con gli altri il contenuto di questa lettera. Andiamo avanti nella lettura del paragrafo. Il video aggiornamento del Corpo Direttivo 2021, pare faccia riferimento a un video che è passato sul broadcasting dove si mostrano i fratelli, gli aderenti all'associazione in questi luoghi tutti insieme perché vaccinati, quindi un video di propaganda che ovviamente condiziona chiunque lo osserva e lo obbliga ad accettare la vaccinazione, no? Perché fanno vedere attraverso questo video che sono tutti tranquilli, sereni e felici perché si sono vaccinati, grande propaganda e pubblicità a questo farmaco sperimentale, a questo trattamento genico chiamato erroneamente vaccino, solo perché lo è concettualmente, ma non lo è praticamente, è un trattamento. Avete mai visto un vaccino che necessita di tre, quattro dosi nel tempo? No, i vaccini necessitano o una dose, al massimo due, un richiamo, oltre la seconda dose non ho più un vaccino ma è un trattamento, è un trattamento genico. Comunque andiamo avanti, non è questo il concetto che ci interessa, dunque fanno riferimento in questa lettera a quel video, in cui si menziona tre importanti fattori da considerare riguardo alla vaccinazione. Uno, come testimoni di Geova non abbiamo obiezioni circa la vaccinazione, quindi qua dicono subito che non hanno nulla da obiettare come testimoni di Geova sulla vaccinazione. pensate un po' quanto cambiamento in questa organizzazione, qualche anno fa impedivano persino di vaccinarsi contro il tetano, contro il tetano signori, vaccinarsi contro il tetano era prima proibito, poi diventò un fatto di coscienza, adesso non hanno più obiezioni. Vabbè, che dire? Loro fanno il giorno, loro fanno la notte, loro fanno bello e cattivo tempo. Comunque, quasi 20.000, secondo punto, quasi 20.000 dei nostri cari fratelli e sorelle sono morti, quasi 20.000 sono morti a causa del Covid. Terzo punto, in alcuni paesi, considerate che questi scrivono dagli Stati Uniti. Questa lettera è stata scritta negli Stati Uniti. In alcuni paesi le autorità superiori sono pronti a chiedere vaccinazione, a obbligare la vaccinazione, insomma. In altri paesi stanno fortemente incoraggiando i loro cittadini a vaccinarsi. La nota di studio, cioè loro fanno riferimento a Romani 13.5, dove dice che il cristiano si sottomette, ovviamente, a Cesare e quindi deve assecondare la volontà del governo. Pensate un po' come hanno abbassato i pantaloni. Questi signori del corpo direttivo è un tempo, è un tempo erano pronti a finire in prigione, no? Per le loro interpretazioni e per le loro teologie. Oggi, beh, vabbè, si sa, no? Cacciano fuori la scrittura precisa che serve sempre a giustificare una qualsiasi posizione. Comunque, al momento, dice qui che 17.957 membri della famiglia Bethel in tutto il mondo, quindi ci sono quasi 18.000 individui impegnati nelle filiali nel mondo, sono stati vaccinati. Tuttavia, non abbiamo ricevuto neppure una segnalazione di un membro della famiglia Bethel che ha avuto praticamente reazione avverse o che si sia ammalato gravemente a causa della vaccinazione. Al contrario, abbiamo notato che nel territorio della filiale degli Stati Uniti il 99% di chi, insomma, ci lavora sono stati ricoverati per Covid che sono o che sono deceduti o che sono stati ricoverati, non lo traduce bene, insomma. Con questo in mente, e dopo molte meditazioni devote, abbiamo deciso che lo è, che questa è la nostra preferenza, insomma, che loro vogliono che ci si vaccini per rimanere, affinché si possa rimanere dentro le filiali. Capite perché il contenuto deve rimanere costrettamente confidenziale? Perché praticamente stanno imponendo a tutti coloro che sono impegnati nelle strutture delle filiali in tutto il mondo, devono praticamente obbligatoriamente vaccinarsi. Se vogliono continuare a rimanere a disposizione, a mantenere questo privilegio, no? Se vogliono mantenere questo privilegio di schiavitù per conto della società Tordi Guardia, si devono vaccinare. Sebbene, però, sebbene, guardate, la vaccinazione sia una questione personale e quando mettono questo sebbene, questa è praticamente la vasellina, ecco, è il porre la vasellina nel punto d'ingresso. Sebbene la vaccinazione sia una questione personale, dobbiamo riconoscere che la nostra persona, le decisioni spesso influenzano gli altri. Le nostre decisioni influenzano anche il modo in cui possiamo essere utilizzati nella realizzazione specifica del servizio nel tempo da parte dell'organizzazione di Geova. Ad esempio, coloro che sono vaccinati possono avere maggiori opportunità per sostenere le attività spirituali. Come mai? Più o meno le regole e l'autorità nazionale richiedono la prova della vaccinazione, e qui si parla, insomma, della certificato verde, no? Prima che le persone possano occuparsi, associarsi insieme, c'è scritto, occuparsi, simili, potrebbero eventualmente influire sul modo in cui utilizzano le nostre stelle del regno durante le assemblee. Praticamente mettono le mani davanti, può darsi che per andare in adunanza e quindi per ritornare nelle sale del regno e per fare le assemblee, quindi servirà anche lì il Green Pass praticamente, no? La certificazione verde. Possono anche influire sul lavoro dei sorveglianti viaggianti, nelle congregazioni in visita o nel prendere parte alle assemblee. Potrebbe anche essere che il viaggio sia limitato per le persone che non sono vaccinate. Anche la nostra capacità di partecipare alla propaganda, l'opera di testimonianza, la chiamano loro, può essere limitata. Chiaramente, oltre ai benefici per la salute, loro mettono in conto che ci sono assolutamente, assicurano che ci sono dei benefici per la salute, se si accetta quindi questo presunto vaccino, ci sono buone ragioni per chi è nel servizio a tempo pieno, insomma. Ecco, questo è quanto dico. Concludono, in considerazione di quanto sopra, abbiamo chiesto al Dipartimento per l'assistenza sanitaria, sarebbe quell'organo interno che gestiscono i rapporti sanitari tra loro di apprendere lo stato di salute di vaccinazione. Adesso devono fare un'indagine, raccogliere dati all'interno dell'associazione e censire chi è vaccinato e chi non lo è, così in modo da, forse dico io, stigmatizzare chi non è ancora vaccinato, farlo sentire in colpa, per cui costringerlo in qualche modo ad accettare la vaccinazione, il farmaco sperimentale. Ripeto, il sottoscritto, colui che vi sta parlando, non è un non-vax, non è contrario ai vaccini, per me i vaccini sono una cosa seria, per me i vaccini sono sicuramente indispensabili per molta gente, soprattutto i soggetti fragili, ma non lo sono, probabilmente per chi invece fragile non è, no? Potrebbe, la vaccinazione potrebbe essere un elemento importante per un settantenne, ma magari non lo è affatto per un quarantenne, considerato che i quarantenni forse devono preoccuparsi delle situazioni avverse di una vaccinazione, piuttosto che di contrarre il covid, mentre il settantenne dovrà preoccuparsi probabilmente del covid piuttosto che della vaccinazione, non so se mi sono riuscito a spiegare, insomma. È giusto per capire che su questo argomento non si può stabilire, fare una regola che vada bene per chiunque, da 0 a 80 anni o a 90 anni, no? Quindi il tutto va sempre contestualizzato. In ogni caso, ecco, come un po' tutti i livelli istituzionali, come in tutti i livelli istituzionali, anche fra i testimoni di Geova, si spinge gli aderenti, si spinge, si condiziona gli aderenti ad accettare la vaccinazione, senza guardare in faccia l'età, stato di salute, eccetera, eccetera. Sono pronti ad abbassarsi i pantaloni davanti appunto alla volontà dei governi, dei governi attuali, della politica, più che altro perché questa è ormai, questa questione è diventata piuttosto politica, piuttosto che sanitaria, ad ogni modo il tutto senza assumersi le responsabilità. E sì, miei cari, un po' come fanno le istituzioni che costringono i cittadini ad accettare, a soccombere per sfinimento un trattamento sanitario che altrimenti non accetterebbero. Perché? Perché renderlo obbligatorio significherebbe poi assumersi anche le responsabilità di un possibile effetto collaterale, giuridico, sanitario o in questo caso, nel caso dei testimoni di Geova, magari anche teologico, no? Per cui questo contenuto strettamente confidenziale. Altri non è che una comunicazione che arriva, non a tutti i testimoni di Geova, eh? Questa lettera non la riceveranno tutti, qualunque testimoni di Geova, soltanto coloro che sono impegnati a tempo pieno, praticamente, nelle filiali o nella propaganda di porta a porta che in questo momento non stanno svolgendo più. Lascio a voi le considerazioni circa il tenore di una comunicazione di questo tipo.